Allora, ci sono dei cecchini davanti, però qui sono riparato. Un tranco è già terra. No, ma veramente mi ha fatto. Cane bastardo. Bene ragazzi, ben ritrovato sul mio canale. Io sono Barry. Ragazzoni, oggi un video molto succulento per voi perché vi mostro un'arma che già sapete che è forte, perché comunque parliamo della MR9, non l'HMR9 che è meta. Parliamo di un'arma che è forte ma che non viene mai utilizzata perché effettivamente ne esiste una nella sua categoria che è più, diciamo, performante. Siccome però mi è sempre piaciuta, ho deciso di buildarla, di provare una build che onestamente io non so se viene già utilizzata o meno e l'ho provata con il cecchino. E secondo me, ragazzi, stiamo parlando attualmente dell'arma più forte come sniper support. Oggi posso anche lasciare la camper che tra l'altro non copro accessori. Come potete vedere la build, ragazzi, non è così assurda, in senso che diciamo che c'ha accessori che vengono utilizzati spesso tipo il compensatore Zem, supporto Bruen. 50 colpi, non il 100 per non renderla, diciamo, troppo ferma, troppo stack e troppo troncolonas. Il calcio è il carabina pesante, cioè l'ultimo. E poi l'ottica, questa è importantissima, ragazzi, senza vetro perché già di per sé riduce il rinculo, quest'ottica visivo. Ma su quest'arma veramente sembra che non esista più il rinculo, cioè è immobile. Lo vedrete anche all'interno del gameplay che da media distanza e anche in close, ma in realtà anche da lunga distanza, è veramente tanta roba. Secondo me, tra queste tre categorie, il mid. Cioè, da media distanza, ragazzi, è veramente qualcosa di allucinante. È troppo soddisfacente utilizzarla, però molte kill, quindi lo vedrete anche. Insomma, ci saranno diverse occasioni in cui lo utilizzerò. Non mi dilungo troppo. Ragazzi, vi lascio al video. Lasciate un like come sempre, mi raccomando. Vi aspetto in live ogni giorno. Un bacione, bella boys. Ora che ho fatto, man! Ragazzi, il contenuto del tubo, questo, è piano. No, salvia, siamo pieni di soldi, ragazzi. Sì, ho trovato l'orosetto e mille robe. Vincchia, sono belli ricchi, è vero. Sei pronto a restarmi per aprire il paragolto nell'ultimo istante? No, 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 bro. Era un test. Appurato, letteralmente, che se lo apri l'ultimo secondo, lo apre. Questo è content, Leo. Meet, meetbusters. Non lo apre se lo apri l'ultimo secondo. È il momento di far ballare questo olga di fuoco. Eh, 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 eh. Qui c'è un figlio di puttana, eh. Morto, 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 questo figlio di puttana. C'era, c'era, c'era. C'era. Minchia, raga, ma... La gente dov'è, ragazzi? Infatti stavo per dire, ma dove cazzo sono i player di sta lobby? Ma poi va giù velo... Ma ragazzi, va giù velocissima in sta modalità la gente. Avete visto? Siamo morti, ho venti persone. Minchia. Cotta. Ma lì veramente buce... A volte, giuro, li fai di quelle robe con la terza persona. Che neanche ti vedono, minchia. Qui ti fa capuzi. Eh, no, purtroppo no. Nope. Mi sto lutando un attimo, così te lo tiro. Ma no, ma sei arrestato questa sega di merda. Mi fa l'esecuzione, minchia. Mamma mia, li stavo facendo tutti col cecchino, Anon. Ora che ho fatto un man... Ce l'ho il Gulag, mi sa, quel coglione lì. Ma che cazzo è? Mi sa che cosa è fermo allo spot. Minchia, guarda. Vedi, coglionaccio a fare l'esecuzione. Che hai fatti con le pippones lì? Eh, uno ne ho fatto, gli altri sono spariti. Ah, ma mi sa che uno me l'ha... Me l'ha pushato qualcun altro, eh. Vado, vado, spara... Leva, leva il ping, leva il ping. Non posso spararli, io bello. Tranquilo, non c'è il problema, Dario. Fidati, se scendevo da bendato con i pugni era uguale. Erano quelli che stavo fightando io, minchia. Non sparavano neanche per sbaglio questi qui. Minchia, aspetta che ho visto scendere uno, lo inseguo come se fosse la madonna. Ho visto un disperato, raga, scendere. Sto andando come se fosse l'ultima bomba del pianeta, giuro. Minchia, per far rombare un po' questi cecchini. Vai, fermati a prendere, che tanto le armi non te le faccio prendere. Ah, lì è entrata una falina enorme. Il coso, come si chiama? Sì, devo sbloccarlo. Però sì, perché... Eh, siamo un paio. Sì, ne ho fatto un po' zio. Eh, mi deve interessare, raga. Eh, ne ho fatto nulla, però. Spero, spero. Spero, spero. Spero, spero. Posso rendere la sua troverro? Da me sì, da me sì. Non si può sparare, spesso, per questo. Ma, raga, comunque quanto cazzo è bello usare l'MR9. Mamma mia. Eh, l'SMG, giuro, troppo bella come arma. Se fosse un po' più maneggevole, Dio, bo... L'MR9. Sì, sì, sì. Se fosse più maneggevole, sarebbe, giuro, uno degli'SMG più belli. Mettici il calcio rimosso. No, no, ma l'ho fatta per sparare... Però è un po' troppo pesante. Eh, infatti, in quel senso, dico, se fosse anche più leggero, sarebbe top. Oh, raga, sono due ore che non trovo un cristiano, giuro. Io ne ho trovato uno che addirittura mi ha pushato, pensa tu. Comunque potremmo farla in sta modalità, la corner challenge, eh. È che se becchi il corner dove sono tutti e 70, bro... Non ti vide le voglia di usare una corda, a volte. Eh, forse stanno facendo tutti la corner challenge, ma nel senso che ne usano uno, proprio, cioè. Gli ho beccato uno ed era uno. Infatti cambio zona, raga, perché sennò ci... Giustacolliamo. Lei è qua. Eh, però ti mette il casco, non ti mette la prima, prima. Aspetta qua da prendere il cecchino. Ma che cazzo ho visto? Ma cosa minch... Cosa cazzo ho appena visto, raga? Io ho dato un colpo, ma ha pure dato la bomba, eh. Porco di... Giorno, ragazzo, sto morendo, giuro. Ragazzi, la bestemmia di... Perché? No, mi sembrava... Sai perché mi hai fatto ridere? Perché in quel momento stavo sparando a uno che si è incastrato in un albero con la macchina, quindi potenzialmente poteva essere la voce sua, cioè, del nemico. Cioè, non aveva fatto capire... Non voleva dirla per non rovinare il contenit, ma era impossibile trattenerla, mi sa. È uscita. Cosa l'ha di me? Non aveva l'intenzione. C'è un'occazione. Vada, raga. Eh, che te ne è atterrato uno sopra di nuovo. Adesso sono finiti. Comunque, guarda che anche da lontano è precisa, è la terza persona. Allora, tipo, io sto usando il RAM. Devi dargli un anticipo. Tirate un wow, se ti è vero. No, purtroppo no. Passami i soldi che hai. Dove sei? What? Ma questo cosa stava a faccio, minchia, raga? Comunque si vedono dei player, giuro, ai limiti della follia in sta modalità, eh. Alcuni non sembrano, minchia, neanche comandati veramente da persone reali. No, no, no. Ma raga, giuro, questo qua era lì che nuotava con la pistola, con una mano alzata fuori dall'acqua, con la pistola dritto per dritto. Mentre gli sparavo col cecchino, raga. Cioè, alcuni veramente, raga, non sembrano reali. Non so che cazzo. Devo farti vedere questo, raga. Ero lì, si è fatto hittare tre volte, non accennato a muoversi. Scendendo. Eh, un altro team è arrivato. È un oro dei G2, eh. Alessio, italiano. È arrivato un altro team. L'errone sa anche nel caso. Quello è ancora lì che resta, brother. Come abusare adesso della terza persona? Eccoci qua. Minchia, quattro da me. No, raga, sono morto, giuro. Non c'era questo, però, giuro, lo sarevo troppo. Sempre gli stessi. Mamma mia, zio, che botta questi, giuro. Che botte clamorosi. Mortaglio qui, occhio, eh. Mortaglio, davanti a benzinaio. Eh, sì, sì. Smocco, andiamo. Minchia, ora thank you come l'ha scritto. Secondo te è un player reale, eh? Brother, questi due? T-E-N-C-K-U. Minchia. Raga, ma come l'ha scritto thank you quel tipo? Eh, fidati. Secondo me, raga, alcuni sono proprio bot. Eh, cos'è bot, minchia? Eh, deve simulare, minchia. Magari, sai, si adatta. La IA simula, fa errori di battitura a fossa per sembrare un umano. Quante volte, minchia, l'hai scritto così per sbaglio? Ci sono bei secondi, veramente. No. Ma io, le modalità senza skill base sono clamorose. Cioè, sono proprio senza senso. D'ora in poi giochiamo, sono le modalità terza persona, eh. Ma quello era italiano, l'ho fatto anche prima, Alessio. Sì, l'ho ucciso, ma non gli hai sparato un colpo, gli ha detto al combattolo. Sì, 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 anche prima mi ha fatto morire la reaction. Cioè, mi sono entrati in due, gli sono entrato un paio di slidate. Sì, sì, ce ne avete uno da fuori. Ma se sto vedendo, raga. Ma il mio si è ressato, eh. Aveva l'autoresco, questo qua, l'ho lasciato. Allora, ci sono dei cecchini davanti, però qui sono riparato. Il tranco è già terra. No, ma veramente mi ha fatto. Cane bastardo. Mi stai a buttare un rest, eh? Sì, sì, grazie, un attimo. Grazie. Hai inocato tu questo qua? Eh, sì. La scena di Dario che mi esplode davanti. Guarda là, free VPN si chiamava questo qua. 4v1. Dove sto minchia? Il problema è che devo trovarlo. Sì, buona ricerca, ragazzo. No, è là, è là. Bravi, bravi, ragazzi. Bravi, ragazzi. Ma a chi l'abbiamo fatto? M***a. Ma voi eravate in terza persona? No, no, no. Ma io in prima, sticcato. Ma veramente? Io prima. Io prima persona. Pure in terza, dai. No, io prima e tra l'altro... Ma dai, vieni, vieni a togliermi. Abbiamo abemus content, ragazzi. Possiamo annunciarlo abemus content. Io tutto in terza l'ho fatto, raga, eh. Ma per un istante la prima persona. È un istante durato 7 safe. È un istante durato 7 safe.